Il 7 ottobre scorso avete firmato una delibera che regolamenta le aperture delle medie e grandi imprese commerciali. Una delibera che ha creato scalpore soprattutto tra le associazioni di categoria, o meglio certe associazioni di categorie, tranne l'ACC. Sì, perché in realtà in questa delibera non c'è nessuna nuova apertura di grandi strutture di vendita, come abbiamo sempre poi detto in campagna elettorale. L'amministrazione precedente aveva individuato nel piano d'assetto del territorio intercomunale, quindi assieme agli altri comuni, e presente poi nel piano commercio, tre grandi strutture di vendita, tra cui quella di San Lazzaro, su area comunale. Noi abbiamo avuto una offerta per questa area comunale, sarà aperta quindi una gara, però questa grande struttura di vendita era già esistente, quindi la critica di Rossi che ieri ha fatto una retromaccia clamorosa dicendo ma era una cosa che aveva fatto la destro ancora molti anni fa, però in realtà l'amministrazione Ivo Rossi-Zanonato l'aveva individuata proprio nel piano d'assetto del territorio. Senza dimenticare poi che, se ricordiamo la delibera del 2013, due anni fa, quando ero sindaco Zanonato, si è data la possibilità di aprire attività commerciali anche alla ZIP in zona industriale a Padova, è quella sì che è una grande area dove purtroppo hanno aperto delle strutture di vendita, assieme quindi al commercio all'ingrosso c'è la possibilità di fare anche al commercio al minuto, ovviamente con dei parametri. Devono sapere i negozianti che in questi giorni sono stati mal informati che i danni sono stati creati dalla precedente amministrazione, non abbiamo potuto fare nient'altro noi che mettere in gara quello che c'era stato richiesto già previsto in precedenti piani. Se non veniva fatto c'era il rischio di qualche sanzione per il Comune se facevano richiesta a chi aveva già le licenze? Beh, ovviamente essendo inserito nel piano d'assetto del territorio e nel piano commerciale, se viene fatta una richiesta bisogna anche motivare il perché poi non viene più attuata questa richiesta. Ma se era ben conosciuta fino a qualche anno fa, non capisco perché a quel momento gli stessi che hanno fatto questo baccano in questi giorni, io glielo ho anche spiegato, loro mi hanno detto ma è una questione tecnica, i nostri tecnici in realtà non hanno letto bene la delibera perché una delibera è una delibera di ricognizione delle domande che già aveva l'amministrazione passata. Un'altra delibera verifica quelle che sono le medie strutture nel territorio in adeguamento alla normativa regionale che effettivamente è diventata molto molto più elastica rispetto a quella del passato. Ricordiamo che la Bolkestein, la normativa europea, sta recepita da tutti quanti gli Stati e quindi anche la Regione Veneto, ha praticamente liberalizzato le medie strutture di vendita. Molte strutture di vendita insieme fanno una grande struttura di vendita, quindi noi dobbiamo anche fare una verifica secondo i contenziosi purtroppo che abbiamo al TAR. Ecco, ci sarà comunque un incontro con le altre associazioni di categoria, anche per spiegargli meglio la delibera in questione che loro hanno chiesto di togliere. Ma noi abbiamo sempre questo tavolo del commercio che ha delle riunioni periodiche, quindi nel prossimo tavolo del commercio parleremo anche di questo. Però ripeto, nessuna nuova licenza fatta da questa amministrazione e lo dico con documentazione in mano e non con chiacchiere da bar.